Siamo in discoteca, al Big Band, qua c'è Francesco che non ti deve e di qua c'è William che non ti deve, guardate la discoteca Qua quelli lì sono dei DJ sono bravissimi, altro che a casa l'insetta c'è un casino di bello lo dico non ci fa niente troppa gente troppe femmine troppe ragazzi veramente bello per poco ci sono in questo momento ballerini maschi non sono pendine però sono senso cochi c'è uno con un bici passoso ho venuto a lui e comunque concludo qua ragazzi ci vediamo dopo